Se esplode sono cazzo, bravi! Se mi esplode la macchina sono cazzi, quindi devo battacchiare il meno possibile, ma vi levaste di culo! Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale 6. Sono 6, oggi le missioni di GTA 4. Dopo aver picchiato ben 3 albanesi, tra cui uno anche munito di coltello, che gli abbiamo puntualmente fottuto, ci avviamo verso la, appunto come detto, sesta missione e riprendiamo esattamente ragazzi a dove abbiamo lasciato l'episodio scorso. Magari ecco, avessi un pochino più di vita, schifo non mi farebbe. Qua c'è una missione strano, sconosciuto come cazzo si chiama, lo faremo poi. Texture che compaiono sulle porte così, a caso, e comunque easy fair. Oh, servo della clèba ciccione. Vlad, addio, il Trevor della situazione. Diciamo che la gentilezza non è proprio di casa. Però ragazzi, non c'è un personaggio antipatico. Parlo comunque della cerchia di Nico, cioè tutti hanno qualcosa. E questa è una cosa che comunque accomuna anche GTA 5. Perché anche in GTA 5 non trovo personaggi particolarmente antipatici. a parte di pocciare i miei nemici. Anche lui devi dei soldi, mamma mia, ma fa proprio schifo Romane. Ok, i filmati non sono proprio della qualità migliore, però vabbè ci si accontenta. Ma a cosa vuol dire? Ti sta per inculare, Fran? Va bene, comunque andiamo. Bene, giustamente col coltellino tra le mani. Un si fregge mia con l'acqua, signori. Andiamo verso Rotterdam Hill. Che siamo comunque a Brock e Brooklyn, ma ora Rotterdam Hill. Insieme a Rotterdam Tower, che è l'emparisette building. Non ne ricordo precisamente... ...cosa stia... ...copiando, mettiamola sotto questo punto di vista. Comunque, eccoci, arrivati. Sto qua scaldato da solo. Che cazzo è? Oh no, sta missione qua è tostissima, ragazzi. È tostissima. Sì, e poi ci scappite dalla polizia, Fra, vero? Cazzo sta... ...missione qua, raga. Bel cazzo in culo. È un bel cazzo in culo sta missione, ragazzi. Perdonate la volgarità, ma quando ci vo, ci vo! Stavo per essere ricercato ancora prima... ...di doverlo essere. O almeno, per fortuna, abbiamo una persona che non cerca di foterti intorno a noi, che non sia Roman. Vabbè, noi facciamo strike di... ...di lampini della luce, eh. Però dai, raga, sono scappato dalle 5 stelle di GTA V... ...senza usare le gallerie. Posso anche scappare alle 3 che ci daranno adesso. Ci poteva andare da solo, eh. Ok, penso che si possa andare dritto. Sì. No, 2 stelle, pensavo fossero 3, non so perché, ma va bene, meglio. Ok, state parlando col maestro delle fughe, quindi... ...tranqui, Franchi. Tranquillo, ce la faccio a mandargli via, non ti preoccupare. Mamma mia, il traffico del mezzogiorno! Oh, merda, di qua. Merda, sono una morsa, però ce la posso fare. Mi sa che qui l'unico modo per toglierci il culo... ...è prendere l'autostrada. Vabbè, quant'altro me m'ha già visto. Buona. Oh, merda. Merda, merda. Mi sta fumando la macchina. Se esplode sono... Bravi! Se mi esplode la macchina sono cazzi, quindi devo battacchiare il meno possibile. Ma vi levaste di culo! Ok. Ok, siamo verso l'uscita. Dov'è? Liberty City Talk Radio? Eccola qua. Dovremmo esserci... Grandi, 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 grandi. Grazie per aver cioccato. Tipo, eravate una gangbang che mi stava inseguendo. La figa. Mi ha portato a Liberty City, ok? Ok, speriamo non ci siano pedoni. Ok. Eh, aveva già... No! Aveva già le sirene pronte quel bastardo, eh. E che merda, non vedo nulla proprio, eh. Vabbè, comunque... Easy Fire è andata. Buona. Il pegno spray. A meno che la polizia non ti vada ad entrare, è vero. Quindi se tipo entro con questa... La riverniscia pure? Sono curioso, mo', eh. Oh, il taxi di Roman grigio. Vabbè, fa cacare lo stesso, eh. Però è carino. Bene. Bene. Ok. Con questa visione del Empire State Building e del... Ponte di Brooklyn, io vi ringrazio. E vi invito a lasciare un... Piccolo... Piccolo... Piccolo like. A iscrivervi al canalozzo. Con tutta la roba che vi sto portando. Vedi, visto che c'è il chiede... FIFA, qualche reaction alle partite, quindi, insomma... È roba che ne vale la pena, a volte. E quindi non ci vediamo prossimamente, ragazzi. Grazie della visione. Alla prossima. A presto. Grazie a tutti.